Max Tagliani, difficile pensare di poter ottenere di più su un campo ridotto ad un vero e proprio pantano? Beh sì, sicuramente il campo ha condizionato in tutto e per tutto la partita, dispiace perché su un campo in condizioni normali forse noi eravamo atteggiati e potevamo portare a casa qualche punto in più. C'erano gli estremi secondo te per sospendere la partita? Secondo me sì, ormai il secondo tempo era proprio impraticabile, il primo qualcosina di meglio ma c'erano gli estremi per sospenderla. Aspetto importante anche in una trasferta come quella di Pavia, difficile soprattutto per le condizioni del campo, il fatto che per la quinta partita nelle ultime sei non avete subito gol? Beh quello sicuramente importante perché se non si subisce gol non si perdono le partite e continuare su questa striscia positiva diciamo di non subire gol fa sempre piacere e speriamo di continuare così. Quanto è importante domenica prossima la partita col Como, uno scontro diretto in chiave playoff che vi può permettere di scalare altre posizioni in classifica? Beh è una partita fondamentale perché è una diretta concorrente per i playoff, loro sono a due punti, giochiamo in casa e dobbiamo fare di tutto per vincere, scavalcarli e continuare la nostra striscia positiva. Una striscia positiva iniziata col pareggio casalingo contro la Pro Vercelli, quando c'è stata la svolta e come soprattutto visto che in precedenza il vostro campionato si contraddistingueva per i tanti alti e bassi? Beh diciamo che dopo la partita di Savona ci siamo guardati un po' in faccia e abbiamo capito che bisognava cambiare qualcosa sotto un po' tutti gli aspetti, ci siamo riuniti e abbiamo trovato un po' più di compattezza, un po' più di unione tutti quanti e la stiamo portando avanti e speriamo di portarla fino alla fine. Ti aspettavi che la tua stagione potesse essere così positiva, insomma è inutile nasconderselo, ad inizio stagione eri quarto nelle gerarchie dei centrali, adesso sei diventato quasi un perno insostituibile. Beh quest'anno per me era importante fare meglio rispetto all'anno scorso, dovevo prendermi le mie rivincite e sì sono partito un po' male, diciamo come l'anno scorso, però ho continuato a lavorare sperando di ritrovare l'occasione per poter giocare, la sto sfruttando penso bene e spero di continuare così per la squadra e per me. Terzo posto a tre punti è quello l'obiettivo da qui a fine campionata? L'obiettivo è entrare nei play-off, secondo me terzi o noni, cioè cambia solamente per le partite in casa e fuori, però sappiamo che i play-off sono un terno all'otto, ogni partita ha la sua storia, l'importante è arrivarci dopo, c'è terzi o noni, vedremo.